L'Italia in subbuglio, l'Italia che fibrilla, Arezzo per esempio è stata sempre una città esuberante, infatti alla Goriezucchi hanno detto volete che riapriamo ci sono 100 esuberi, poi c'è Torino con Marchionne, gli stanno facendo fare agli operai il referendum famoso, praticamente oggi un operaio della Fiat, che cosa fa a differenza del passato? Fino all'anno scorso o fino ad oggi quel lavoro che faceva in inverno andava a spenderselo al mare d'estate per riposarsi, le alternative erano due, o Martirreno o Mar Adriatico, ora invece lavoreranno tutto l'anno per un solo mare, Marchionne, ti è piaciuta Rita? Dai questa era bellina, cazzo che collaboratori, comunque ieri Marchionne non è stato sportivo, anzi oggi perché l'hanno registrata ieri ma la mandano oggi, gli hanno fatto uno scherzo radiofonico facendo finta di essere vendola, pronto sono vendola, ma veniamo a ciò che succede a Genova perché il Ministero ha scoperto che il Prefetto di Genova si è fatto ristrutturare un bagno con la modica cifra di 100 mila Euro, addirittura ci sono dentro le attrezzature per la cromoterapia e lui ha detto come chi ha fatto spendere tutti questi soldi per il bagno? Che sento io? La Prefettura ha il capogabinetto, incazzatevi con lui ed ha ragione. Poi a Torino una simpatica zingara picchia il bambino di 5 anni perché raccoglie poca elemosina e ha fatto bene perché i bambini vanno insomma istruiti da piccolini e infine a Romano Prodi che era scomparso dalla scena internazionali è stato ascoltato come testimone per agiotaggio che non è un'accusa napoletana perché si dice agiotaggio cosa vuol dire? Vuol dire cercare di pressare per esempio una notizia o di gonfiarla affinché la borsa o un evento economico legato a quella notizia possa essere alterato. Dopo aver dato dimostrazioni di grande cultura oltre che di capacità espositiva, vorrei far vedere che meritavo il posto carico, che tristezza, buona giornata!